Arturo Scotto, articolo 1, Movimento Democratici Progressisti. Il Movimento Democratici Progressisti è mediano e mediatore tra Pisapia e la sinistra più radicale o cosa? Non si tratta di mediare nulla. Il tema è se tutti avvertono l'urgenza di dare rappresentanza a una sinistra politica in questo Paese, al mondo del lavoro frantumato e solo, costruendo un'alternativa di governo e non una semplice partita di testimonianza. Grazie.